Eravamo stati avvisati che entravamo in un tempo particolare. Io ho interpretato per anni i cerchi nel grano. A parer mio, la stagione profetica dei cerchi nel grano, iniziata soprattutto nel 2010, si è conclusa nel 2019. Perché in quei due anni sono stati creati dei cerchi nel grano che di fatto hanno illustrato simbologicamente l'Apocalisse sino al suo estremo epilogo che è quello della seconda venuta di Cristo. E in particolare nel 2018, il 20 giugno, compare questo cerchio nel grano che ho spiegato già varie volte, che è un pitogramma nella quale è presente una stella a sette punte che al suo interno racchiude un ettagono, cioè un poligono di sette lati. Il tutto è iscritto dentro un cerchio, che come sapete rappresenta il divino. Quindi ciò che è dentro il cerchio viene da Dio. Possiamo interpretarlo in questo modo. Nel corpo dell'ettagono, cioè del poligono a sette lati, vedete, vi è disegnato un motivo geometrico con delle linee sottili la cui forma appare chiaramente rappresentare sette coppe. Il programma si aggancia quindi a quella profezia che è la parte conclusiva dell'Apocalisse di Giovanni che riguarda le sette coppe dell'ira di Dio, le sette piaghe che sono l'effetto delle cause generate dall'umanità disobbediente. Ecco, vedete, qui, diciamo, evidenziate con dei colori le sette coppe. Se ci fate caso, c'è una tessitura degli steli di grano che completano la figura che, se fosse, diciamo, stata disegnata in terra, rappresenterebbe un pesce stilizzato. E il pesce sappiamo che è il simbolo di Cristo, l'ictis. Quindi le sette coppe sono il Cristo non formato, la disobbedienza alle leggi che Cristo ci ha portato o che egli ha ribadito. Quando nel Vangelo il Signore ci parla dei comandamenti a cui tutti dovremmo obbedire. Quindi le sette coppe dell'ira di Dio sono la parte finale dell'Apocalisse, la parte conclusiva dove si scatenano quelle immense forze che sono da un lato forze carmiche chiamate da noi con il nostro agire, ma sono anche forze divine e demoniache perché in quel tempo, nel tempo delle coppe, il tutto viene accelerato affinché possa compiersi quella profezia che ho citato prima e che dice se quei giorni non fossero abbreviati nemmeno gli eletti si salverebbero, ma a cagione degli eletti quei giorni verranno abbreviati. Quindi è un ciclo di tempo particolare dove i fatti si susseguono con una rapidità assolutamente straordinaria rispetto al tempo passato in grado di cambiare in pochissimi anni il volto del pianeta e della stessa umanità. Addirittura la stessa massoneria scoperta da Carlo Palermo dice un anno per aprire, tre per chiudere. L'anno di apertura è il 2020, più tre al massimo dovremmo arrivare al 2024. Questo per dire cosa amici? Non certo che sono sicuro che quella sia la data in cui tutto finisce, ma di certo sono anni nei quali il potere spingerà con una forza inaudita per il raggiungimento dei suoi scopi. Quindi pensare che tutto ciò possa essere fermato da semplici manifestazioni di piazza è assolutamente perlomeno ingenuo. Quindi con questo cerchio nel grano gli extraterrestri ci hanno voluto indicare che era imminente l'inizio del tempo delle sette coppe dell'ira santa di Dio. Mai profezia dei cerchi nel grano fu così esatta e veloce perché poi a fine 2019 inizia la saga pandemica dichiarata nei primi mesi del 2020 e da allora ad oggi il volto del mondo è cambiato come nessuno di noi avrebbe mai pensato prima. E la prima piaga, se andiamo a vedere le sette coppe, andiamo in Apocalisse 16 che è la parte dove sono descritte le sette coppe dell'ira, vedete? La leggo. Udì poi una gran voce dal Tempio che diceva ai sette angeli andate versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Partì il primo e versò la sua coppa sopra la terra e scoppiò una piaga dolorosa e maligna sugli uomini che recavano il marchio della bestia e si prostravano davanti alla sua statua. Beh, amici, più chiaro di così. La prima coppa è una piaga maligna, ma guarda un po'. Una piaga maligna, cioè una malattia, una pandemia, un virus. Che dobbiamo dire, se non che le parole e i fatti si confermano senza alcun dubbio indicandoci chiarissimamente in quale momento apocalittico oggi l'umanità si trova. Quindi ogni coppa determinerà degli eventi di portata globale che traghetteranno l'umanità a una gravissima, terribile purificazione generata dalla sommatoria delle offese alla legge di Dio e quindi la legge di causa ed effetto riversa su di noi con l'aggravante della pressione delle due forze cristiche e luciferiche che devono accelerare in uno scontro frontale definito biblicamente la battaglia di Armageddon devono determinare quell'epilogo che sancirà l'instaurazione del regno dopo la grande purificazione dell'umanità è la salvezza degli eletti descritta in tantissime profezie e dei quali sono interpreti questi esseri che provengono dal cosmo per volontà della gerarchia divina. Quindi siamo in un tempo particolare siamo in un tempo straordinario che richiede da noi scelte radicali scelte eccezionali questo è un discorso che mi fece a suo tempo Eugenio e mi disse viviamo in tempi straordinari che richiedono scelte di vita eccezionali perché siamo nel tempo o meglio siamo nel tempo della fine dei tempi cos'è la fine dei tempi? è la fine del tempo che Dio ha concesso all'umanità per realizzare quei valori necessari per instaurare o per far parte dell'instaurazione del regno quindi lo stiamo vivendo oggi come fatto quotidiano libero arbitrio ognuno faccia come crede io più che presentare i fatti le prove, le letture come da decenni faccio non posso fare quello che potevo fare l'ho fatto continuo a farlo mi sforzo di fare sempre meglio faccio ricerca faccio divulgazione e organizzo e ho organizzato la mia vita in funzione di questi tempi che io sapevo da oltre 30 anni che sarebbero arrivati non l'hanno fatto in molti purtroppo questo mi dispiace tantissimo ma spero che in questa piccola parte di tempo che ci rimanga moltissime persone ne comprendano l'urgenza e pongono in essere queste scelte di cambiamento che in un decreto non è raggiunto no ora non èata ci rimanga